Presidente Becci, oggi presentate questa iniziativa che rientra in un progetto più ampio che poi a metà gennaio vedrà arrivare in Abruzzo anche tour operator da diversi paesi europei. Sì, parliamo di un progetto a cui il sistema camerale italiano sta puntando molto che è il famoso incremento del 20% e a Pescara in particolare abbiamo fatto questa scelta di puntare questi circa 400-500 mila euro che derivano dal 20% che le imprese versano in più per cui finanziamenti solo delle aziende e noi abbiamo deciso di puntare tutto sul turismo, sul settore del turismo. E' dentro a questo progetto per il 2017-18-19 perché riguarda tre annualità, quindi quella cifra va moltiplicata per tre e noi stiamo facendo un discorso più ampio, Lucida Artista è quello più visibile e sotto gli occhi di tutti ma come diceva bene lei attorno ci mettiamo in coming e perché stamattina la presenza del professor Mattoscio più, come dico io, in veste di presidente di saga? Perché con il professor Mattoscio, con la saga si è condiviso appunto le rotte che già sono in essere per cui da qui costruire questo progetto dove Lucida Artista ha l'impatto più visibile. L'aeroporto coglie questa occasione che è uno sforzo importante del sistema camerale da un punto di vista economico e organizzativo finalizzato a rilanciare il prodotto Abruzzo in quanto tale. Bisogna però sottolineare che l'obiettivo della visibilità è difficile raggiungerlo se non si riesce a fare sinergie tra i valienti che possono contribuire a sostenere l'intento. Nel caso sia l'aeroporto sia la Fondazione Vesca di Abruzzo condividono l'iniziativa della Cava di Commercio e quindi si rendono disponibili a contribuire in tal senso. Bisogna sempre ricordare che oltre all'obiettivo della visibilità della regione e dei nostri territori in quanto tale occorre anche sforzarsi nella direzione dell'accoglienza, dell'organizzazione dell'accoglienza. Grazie a tutti.